di nuovo buongiorno eccoci qui approdati nella seconda parte di prima di tutto con l'ospite come ho annunciato in precedenza Angelo Marcone consigliere comunale giovane consigliere comunale di Roseto buongiorno Angelo buongiorno a tutti e allora da che si intanto ci diamo del tuo e fissiamo subito il paletto senza tanti convenevoli anche perché ci conosciamo da diverso tempo dicevamo appunto Angelo Marcone 24 anni giovane consigliere a Roseto eletto con Roseto nel cuore movimento che rientrava all'interno di Abruzzo Civico poi la costituzione di casa civica a Roseto e l'espulsione perché dobbiamo parlare di espulsione o comunque di allontanamento da parte di casa civica nei tuoi confronti quindi Angelo Marcone nei confronti del presidente Flaviano De Vincentis e di un dirigente Carlo Simone che cosa è accaduto noi abbiamo avuto ospite qualche tempo fa Mario Nugnes tuo collega in consiglio comunale a Roseto che ha dato ovviamente la sua versione dei fatti noi vogliamo ascoltare anche la tua versione dei fatti perché oggi voi siete sia all'opposizione a Roseto però con una identità di completamente diversa Sì innanzitutto buongiorno a tutti grazie Lino dell'invito sì c'è stata questa brutta vicenda all'interno di casa civica dopo dei malumori che erano nati nelle ultime riunioni visto la posizione poco chiara per le regionali noi abbiamo fatto un percorso all'interno del centrodestra molto chiaro il 4 di marzo alle scorse politiche abbiamo sostenuto tutti l'onorevole Sottanelli con la lista noi con l'Italia al senato all'interno del centrodestra abbiamo sostenuto alla camera Gianni Chiodi come candidato di noi con l'Italia sempre all'interno del centrodestra e successivamente alle comunali abbiamo sostenuto candidati sindaco di area di centrodestra civici comunque di centrodestra uno fra gli esempi più diciamo più importanti Teramo città abbiamo sostenuto la candidatura di Gian Donato Morra io accompagnai anche il segretario ormai ex segretario provinciale di Abruzzo Civico al tavolo del centrodestra che fu fatto a Teramo mi sa se non ricordo male convocato proprio dalla Lega dove erano presenti diversi esponenti al centrodestra quindi anche lì incidemmo sulla scelta del candidato sindaco e inserimmo nella lista oltre dei candidati a sostegno di Gian Donato Morra successivamente alle provinciali io ho firmato la candidatura di Diego Ibuaventura ho partecipato ad una cena che si è svolta si svolse a notaresco con tutti gli esponenti del centrodestra locale e successivamente alle regionali credo che il percorso più coerente era quello di appoggiare il centrodestra io l'ho fatto e qualcun altro ha deciso di non farlo quindi legittimamente nel rispetto delle opinioni di tutti però qualcuno ha ribadito di essere civici né di centrodestra né di centrosinistra io dopo un percorso in opposizione a Roseto al partito democratico e quindi al centrosinistra mi sentivo di continuare su quel percorso percorso che ovviamente non è nato non è nato per nostra iniziativa noi partimmo quando ci fu il ballottaggio con un sostegno a di Girolamo che poi si vanificò perché non rispetto gli accordi ricordiamo che c'era un accordo scritto c'era stata una riunione ricordo anche dove ci fu questa riunione un patto di alleanza c'era stato ci fu un patto di alleanza ovviamente quando si prende un atto ufficiale perché non venne dichiarato ufficialmente l'imparentamento e questo va detto questo sì ma infatti io ripeto quello quando si prende decisioni del genere lo si fa di gruppo io non ero d'accordo se non c'era un apparentamento ufficiale perché in politica sappiamo che la parola purtroppo vale vale poco quindi se non c'era un atto ufficiale io non avrei fatto quel passaggio il passaggio è stato fatto il partito democratico si è comportato come si è comportato ma questo ormai è passato quindi poi si è costruito un altro tipo di percorso un altro tipo di diciamo di progetto che è andato avanti fino a qualche tempo fa poi alle regionali c'è stata questa indecisione di qualcuno perché qualcuno ha sostenuto anche i candidati di centro-sinistra alle regionali quindi senza nulla toglie ripeto legittimamente parlando ma io dopo un percorso fatto nel centro-destra non potevo sostenere un altro tipo di candidato o sostenere candidati vicino al partito democratico che a Roseto sta in maggioranza io sto appunto all'opposizione nella parte avversa quindi io credo che questo sia stato un percorso coerente abbiamo deciso di fare questo percorso io insieme ad altri amici e ovviamente volevamo parlarne un po di più all'interno di casa civica ma tramite un comunicato abbiamo appreso che questa rottura c'era ed era inevitabile. Allora è chiaro che adesso va beh c'è stato già un consiglio comunale però non abbiamo capito bene se c'è stata una dichiarazione di sostegno o comunque di appartenenza adesso ad un gruppo cioè tu dovresti costituire un proprio gruppo un tuo gruppo all'interno. Sì io attualmente mi reputo un civico all'interno del centro-destra io sono stato eletto nella lista Roseto nel cuore che comunque fa riferimento faceva cioè fa riferimento il simbolo in marchio il brand Roseto nel cuore a Giulio Sottanelli quindi per ora ecco rimango diciamo in questa fase se ci saranno problemi che qualcuno non so dopo come funzionano queste cose perché ripeto è la mia prima esperienza in consiglio comunale quindi non sono afferrato su questi argomenti se sa per qualcuno questo può essere un problema vedremo comunque valuteremo. A questo punto ti faccio la domanda proprio per cercare di capire che cosa accadrà visto che tra due anni e mezzo più o meno si tornerà le elezioni a Roseto. Roseto che ha uno zoccolo duro con la Lega non ha una rappresentanza in consiglio comunale ma una dirigenza a livello regionale perché pensiamo a Caterina Longo pensiamo anche all'assessore Piero Fioretti assessore al lavoro assessore regionale Giuseppe Bellachioma che da quattro anni fa quasi cinque anni fa aveva sposato il progetto della Lega. Noi sappiamo che tu hai avuto comunque degli incontri con la Lega incontri a cui hanno partecipato ha partecipato anche l'ex sindaco Ennio Pavone. Potrebbe la Lega approdare in consiglio comunale con la tua scelta di ufficializzare appunto l'eventuale ingresso nella Lega? Allora io innanzitutto incontri ufficiali con i dirigenti della Lega in presenza anche del consigliere Pavone non ci sono stati. C'è stato un incontro allora prima delle elezioni regionali per le varie candidature ci sono stati contatti con tutti i partiti dell'area di centrodestra hanno provato a chiamare anche dall'altra parte però ovviamente l'indirizzo politico era ben chiaro. Successivamente alle regionali c'è stato un incontro per parlare delle provinciali quello poi uscì anche su City Rumors un incontro che fu fatto a Mociano in un ristorante. Tu sei benissimo però è stato un incontro vicino alla rotonda di Grasciano. Per parlare delle provinciali che insomma le liste venivano chiuse qualche giorno dopo quindi io accompagnai il Carlo Simone nell'articolo non era citato. Ma io sapevo che c'era Carlo Simone. Ecco bravo sei birboncello. Comunque accompagnai Carlo Simone come l'ho accompagnato più volte ecco ripeto nell'esempio prima a Teramo un anno e mezzo fa quindi parliamo di tempo fa quando ci fu il tavolo a Teramo del centrodestra io partecipai c'è una foto anche sul giornale sul centro ci sta ci stava Bella Chioma io e Carlo Simone e altri esponenti c'erano quelli fratelli Italia c'era Fioretti quindi cioè sono incontri che si fanno perché se si fa parte di un'area politica è giusto che si incontra quell'area politica. Ma non hai risposto alla mia domanda. Sarebbe aspetta ci arrivo. Sarebbe stato veramente pazzesco e incoerente incontrare qualcuno del partito democratico per farci accordi quello sì quello sì ecco noi invece ecco a livello politico a livello rosetano io credo che per costruire una coalizione di centrodestra forte per mandare a casa l'attuale amministrazione sia ovviamente essenziale e necessario un dialogo anche con la Lega perché la Lega è il primo partito della coalizione centrodestra rappresenta in regione il gruppo consigliare del consiglio regionale più grande quindi sicuramente ecco abbiamo due esponenti di rilievo a Roseto l'onorevole Bellachioma abbiamo l'assessore Fioretti che comunque hanno un ruolo importante sono segretario regionale provinciale quindi sicuramente ci sarà un dialogo con loro se poi si costruirà un gruppo in consiglio comunale questo cioè se ancora non non ha parecchio come faccio a mangiare cioè questo il 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 senso ancora non c'è una discussione su su questo argomento potrà potrà nascere un qualcosa come non potrà nascere questo ovviamente una discussione che dovrà essere fatta ma comunque restiamo comunque sempre in un'area di centrodestra questo cioè il il nostro obiettivo il mio obiettivo fino ad oggi è quello di costruire una coalizione di centrodestra per mandare a casa l'amministrazione poi i metodi vari partiti tutte le diciamo le scelte interne si vedranno durante questi due anni e mezzo che sono tanti per la politica quindi costruiremo sicuramente un percorso vedremo però è chiaro che l'opposizione le forze di opposizione a roseto adesso stanno vivendo una situazione un po' particolare perché abbiamo da una parte mi pare di capire appunto mario nunez e alessandro recchiuti dall'altra parte invece abbiamo ehm angelo marcone egno pavone che rappresentano il vero centrodestra in qualche maniera e poi c'è rosaria ciancaione capogruppo ex candidato eh sindaco per ehm abruzzo civico tra l'altro voi avevate sostenuto proprio la candidatura a sindaco eh di rosaria ciancaione quindi esponente dell'area di sinistra non ci furono gli apparentamenti non ci furono ufficializzazioni però sotto banco c'era questa promessa di sostenere sabatino di girona che poi le elezioni le ha vinte al ballottaggio ma alla fine a voi non è stato riconosciuto eh nulla confermo il fatto. Meno male visto l'operato andava solo a danneggiare ecco eh la vostra immagine. L'immagine perché ecco l'immagine politica si intende. Sì sì è chiaro. Perché ecco abbiamo visto i risultati deludenti ma ne parleremo. Ne parleremo tra poco nella seconda parte di questa chiacchierata perché io nella prima parte vorrei concludere. Sì sì. Proprio l'aspetto politico legato al centrodestra Roseto perché come dicevo insomma abbiamo un centrodestra eh spacchettato con un'opposizione rappresentata anche da un'anima di sinistra che è Rosaria eh ciancaione un governo in città eh di centro sinistra sostenuto prevalentemente dal partito eh democratico. Non sono mancate le critiche però oggi mi chiedo questo centrodestra spacchettato riuscirebbe in qualche modo a eh creare situazioni di difficoltà all'amministrazione guidata da Sabatino di Girolamo? Ma guarda in questi due anni e mezzo ecco il percorso è iniziato in maniera molto più compatta. Ecco adesso ultimamente ci sono state delle eh diciamo delle delle divisioni sui modi di fare opposizione che legittimamente ognuno fa come vuole. Eh però io credo che comunque nonostante questa divisione che c'è ed è evidente eh nei modi di fare opposizione poi sui risultati cerchiamo sempre di trovare una quadra insieme e eh la eh l'attuale maggioranza entra in difficoltà anche con un'opposizione che non è proprio compatta. Quindi questo vuol dire che se si riesce a costruire in questi due anni e mezzo un'opposizione più compatta con un centrodestra eh diciamo unito io credo che questa amministrazione possa avere delle difficoltà e eh siccome c'è una eh diciamo situazione di impopolarità verso questa amministrazione per le scelte amministrative che ha adottato io credo che comunque c'è la possibilità per per vincere le prossime elezioni amministrative e attuare il programma del centrodestra. Ovviamente con chi? bisogna vedere ecco Nunez ha fatto una scelta insieme al gruppo di non di eh diciamo non individuarsi nel centrodestra ma di eh rimettersi insomma in maniera civica lì in mezzo cioè pronto eh in caso nasce un progetto che ne so un po' più ampio ecco come è avvenuto a Giulianova un progetto civico non lo so quindi potrebbe anche. Però a Giulianova la situazione è un po' diversa perché abbiamo eh Ivan Costantini che eh candidato è sostenuto da sei liste moderate no? Di area di centrodestra. E c'è qualcuno anche del centrosinistra. Sì e c'è ci sono vecchi esponenti del centrosinistra anche esponenti che hanno rivestito carica cariche di amministratore a Roseto. Poi c'è Pietro Tribuiani ovviamente sono candidati sindaci che noi avremo ospiti nella nostra finestra mattutina nei prossimi giorni e poi c'è come dicevamo appunto Pietro Tribuiani che è il candidato della Lega sostenuto da Fratelli d'Italia e Forza Italia tant'è che Fratelli d'Italia ha commissariato il coordinamento di Giulianova togliendo l'incarico a Paolo Vasanella eh che aveva indicato in Gianluca Grimi il candidato sindaco e eh Forza Italia commissariata a sua volta perché ha tolto il simbolo a Ivan Costantini che era responsabile locale perché a sostegno appunto Forza Italia del candidato della Lega per accordi di Roma presi al suo tempo quindi la situazione da Giulianova è un po' più complessa. A Roseto però in vista delle elezioni che ci saranno fra due anni c'è ancora margine di trattativa e di poter lavorare e raggiungere un obiettivo. Certo ma infatti è quello l'obiettivo cioè creare un un'area politica ampia un centro-destra ripeto unito principalmente i tre partiti che ne fanno parte e in più anche costruire attorno un un discorso civico. Bisogna vedere chi ci sta e chi no perché eh diciamo eh eh chi oggi si è esposto nel dire che non sta né di qua né di là potrebbe come fare accordi con il centro-destra come potrebbe fare accordi con il centro-sinistra. Ecco io voglio avere la certezza che chi eh collabora in opposizione con me e con anche posso dire anche Ennio Pavone abbiamo la certezza dobbiamo avere la certezza che il nostro avversario politico è l'amministrazione del Partito Democratico quindi l'attuale sindaco e tutti coloro che comunque sostengono questa amministrazione. Per me non basta mettere un nuovo una persona nuova dall'altra parte che non sia eh che ne so di Girolamo alle prossime eh elezioni amministrative per dire che è cambiato un progetto che è cambiato un modo di fare politica perché le scelte amministrative che questa maggioranza ha portato avanti e se c'è qualcuno che ha appoggiato queste scelte amministrative per me è un mio avversario politico. Poi ci posso prendere i caffè, ci posso parlare, ci posso scherzare perché i rapporti personali sono differenti. Tant'è che anche col Consigliere Nunez io eh diciamo anche in Consiglio Comunale è un rapporto eh personale che comunque resta non è perché ha eh per me fatto quel gruppo, quella parte, una scelta differente che io rispetto eh ti faccio un esempio banalissimo che però calza a perfezione. Io sono un tifoso dell'Inter detesto la Juve, lo sai perfettamente, ho amici juventini con cui vado allo scontro dal punto di vista calcistico ma sono amici che vengono a cena a casa mia, io vado a casa loro, quindi dal punto di vista personale tutto esula, non bisogna mai come dire oltrepassare determinati paletti, d'accordo lo sfottò, d'accordo tutto, d'accordo la rivalità però poi da pienamente d'accordo. Sono cose differenti. Esatto. Allora io direi di concludere qui il discorso politico per quanto riguarda la posizione di Angelo Marcone però di iniziare invece quello più amministrativo perché comunque Marcone è stato uno dei consiglieri d'opposizione più attivi e uno di quelli che assieme allo stesso Nunez però va detto eh ha presentato un'interpellanza molto importante. Sì 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 abbiamo fatto quello sulla sicurezza io credo che sia stata una mozione molto importante. Sì 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 abbiamo fatto ripeto le mozioni portate in consiglio sono state sempre ragionate quindi sono comunque emozioni che io condivido e quindi non ha nulla a che vedere col diverso percorso politico che adesso ci divide. Tu sai perfettamente che su una mozione io ho avuto da ridire perché. Sì quella su ho capito. Sì no possiamo dire sulla palestra da realizzare al posto della piazza a Cologna e piazza realizzata appena nel 2016. Credo che sia stata e te l'ho detto anche personalmente. Siamo andati anche diciamo così tra virgolette ad uno scontro. Mentre ho ritenuto molto molto importante la mozione sulla sicurezza perché voi avete chiesto all'amministrazione comunale di prendere un impegno ben preciso soprattutto per fronteggiare tutte quelle problematiche legate ad una movida piuttosto accesa. Roseto pensiamo alla zona di via latini di piazza Dante ogni fine settimana si crea una situazione un po' particolare però oggi il comune mette in campo 15 mila euro per la realizzazione e l'installazione di 15 telecamere di videosorveglianza. La prefettura ne chiede di più. Qualcosa si è mosso dopo la vostra mozione? Sì per questo siamo molto felici ovviamente la mozione prevedeva anche altro. C'era ad esempio il controllo del avvicinato c'era diciamo una collaborazione con la sicurezza privata quindi c'era un altro tipo di discorso più ampio che era stato adottato e aveva portato dei risultati anche in altri comuni quindi io portai in consiglio comunale degli esempi molto chiari. Già comunque questo diciamo il fatto di installare delle telecamere di sicurezze e quindi iniziare a mettere degli occhi sulle strade di Roseto che magari ad un certo orario sono strade vuote per ovvie ragioni ecco mettere questi sistemi di controllo sarà sicuramente utile per diciamo limitare gli atti di vandalismo limitare magari anche i furti perché il dato del 2018 ci dice che a Roseto c'è stata un'incidenza maggiore rispetto al 2017 credo una sessantina di episodi di micro criminalità in più rispetto all'anno precedente e quindi bisogna intervenire. Ci sono ci sono queste queste situazioni qui che continuano ad esserci soprattutto nelle frazioni ecco la mozione sicurezza prevedeva anche una diciamo maggiore sicurezza nelle frazioni del nostro territorio che molto spesso sono anche delle zone lasciate al buio per lì poi ci possiamo anche arrivare per il discorso del project come no però sono zone lasciate al buio perché abbiamo un sistema dell'illuminazione pubblica ormai molto vecchio e quindi abbiamo visto molti pali che sono caduti in questi in questi anni e quindi il nostro discorso era molto più ampio perché esiste ovviamente Roseto che è una città turistica importante tutto si svolge a Roseto città però anche le frazioni del territorio perché parliamo di un territorio di oltre 50 chilometri quadrati quindi è un territorio molto vasto quello di Roseto e quindi non dico di piazzare una telecamera in ogni angolo della città però comunque costruire un qualcosa di che faccia sentire il cittadino più sicuro quindi sicuramente il tema della sicurezza è un tema che va diciamo riaffrontato ecco non bastano quelle telecamere quegli investimenti 15 mila euro bisogna investire ancora di più sulla sicurezza parliamo di un territorio Roseto di circa 52 53 chilometri quadrati e frazioni comprese non è un territorio piccolo assolutamente addirittura ci sono comuni molto molto più piccoli Roseto abbraccia soprattutto l'area tra colonia spiaggia e colonia paese che può essere definita quasi un comune a sé stante con oltre quasi 4 mila abitanti è perché la frazione di colonia spiaggia oggi sfiora se non addirittura supera i 3 mila abitanti poi abbiamo il centro storico di colonia paese con circa 800 abitanti se non vado errato quindi è uno zoccolo duro importante per il territorio rosetano una frazione quella della spiaggia di colonia che vive di turismo e che ha un movimento soprattutto d'estate interessante anche da questo punto di vista la sicurezza insomma si pone al centro dell'attenzione altro argomento su cui voi avete come dire messo in campo una battaglia contro questa amministrazione Tari tassa sulla pubblicità e sulle insegne ma poi anche l'imposta di soggiorno perché avevate affrontato questo tema sostenendo le come dire le idee degli operatori turistici del territorio è arrivata una sentenza del tar ne sono arrivate due per la verità sia sulla Tari sia sull'imposta di soggiorno due sentenze che in qualche maniera non diciamo hanno smentito l'amministrazione comunale ma hanno stabilito delle condizioni ben chiare su come bisognava procedere e sulle scelte che bisognava fare beh sì sono due vittorie al tar molto importanti parliamo quella della tassa di soggiorno per iniziare che è quella della tari quindi la tassa sui rifiuti sulla tassa di soggiorno io ci fu un' intervista con te pure su questo argomento dove l'attuale maggioranza appunto disse che mise a votazione in maniera illegittima a parer mio ma oggi anche un tribunale della repubblica ha detto che i consiglieri di opposizione avevano ragione messa a votazione in maniera illegittima gli emendamenti sull'imposta di soggiorno furono accorpati e messi a votazione il regolamento del 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 consiglio comunale prevedeva che ogni emendamento doveva essere discusso noi lì facemmo posizione non perché eravamo contro l'imposta di soggiorno ma perché eravamo contro il metodo adottato tant'è che l'amministrazione la inserì nel DUP nel documento unico di programmazione senza parlarne prima con gli operatori fece un incontro successivamente quindi tutto quel metodo utilizzato dall'amministrazione noi non eravamo assolutamente d'accordo perché prima ci si confronta con le categorie con le associazioni con gli operatori del settore e poi si prende una decisione anche sull'imposta del sull'aumento della tassa degli insegni che ci andremo dopo a parlare quindi la tassa di soggiorno c'è stato il ricorso al TAR è tornata in consiglio comunale nuovamente quest'anno perché appunto la delibera che fu votata l'anno scorso è stata annullata è stata eliminata dal TAR quindi che cosa è successo che noi abbiamo deciso abbiamo deciso di che cosa? no no tranquillo si sente la pioggia allora dicevo l'imposta di soggiorno il nuovo regolamento è arrivato in consiglio comunale facemmo presentammo abbiamo presentato io il consigliere Pavone 500 emendamenti più un emendamento serio presentato con tutti i consiglieri dell'opposizione dove andavamo a proporre un tavolo un ente manifestazione l'attuale amministrazione non voleva inizialmente portare avanti questo discorso molto hanno aiutato appunto i 500 emendamenti perché sono stati diciamo l'elemento di contrattazione per poter ottenere il risultato poi avete trovato una sintesi però su questo aspetto io e il consigliere Pavone abbiamo cercato abbiamo studiato nei giorni prima del consiglio diciamo la la perché ci fu un parere revisori dei conti contrario perché diceva che non si possono creare enti eccetera eccetera anche se noi non avevamo detto questo cioè le società impartecipate eccetera eccetera quindi troviamo il metodo che è diciamo la fondazione in partecipazione il metodo giuridico più opportuno c'è anche l'associazione comunque c'era noi proponemmo sospendemmo il consiglio comunale proponemmo questa cosa ci fu una contrattazione noi volevamo che tutto l'importo dell'imposto di soggiorno venisse dato a questa fondazione di partecipazione per poter gestire per poter far gestire a chi si occupa di queste cose gli operatori del settore alle associazioni chi è esperto in queste tematiche gestire i fondi dell'imposto di soggiorno ovviamente in maniera trasparente pubblica ovviamente poi siamo arrivati a una percentuale ridotta quella del 25 per cento con la possibilità di incremento annuale la prima percentuale proposta dalla maggioranza era tipo il 10 comunque alla fine dopo ore di consiglio comunale siamo riusciti ad inserire una percentuale che ritengo comunque importante perché parliamo di circa un dagli 80 100 mila euro che consideriamo circa 350 mila euro certi di introiti con l'imposta di soggiorno anche se il calcolo formulato dall'amministrazione comunale è sui 500 mila euro però l'estate 2018 un po' di meno credo comunque sì poi questo si vede alla fine perché dipende dal è difficile preventivarlo una cosa del genere quindi comunque in linea generica sarà come l'anno scorso forse qualcosina di più però comunque è un passo in avanti che è stato fatto e per questo motivo comunque gli operatori sono rimasti contenti soddisfatti di questa di questa soluzione trovata adesso però noi ancora non vediamo nulla il la risoluzione prevedeva un impegno entro il 30 giugno di quest'anno quindi noi adesso ci sarà penso un consiglio a breve chiederemo cosa cosa ha fatto fino ad oggi l'amministrazione quali soluzioni ha trovato e qual è il percorso che vuole fare abbiamo ancora quattro minuti tari tari è imposta sulle insegne sulla pubblicità l'imposta sull'insegne io credo sia stato un dietro front che ha dimostrato tutta la fragilità di questa amministrazione del sindaco di girolamo un dietro front incredibile perché un amministratore quando prende una decisione la la si prende dopo aver confrontato le associazioni di categoria poi si trova un compromesso se c'è un aumento da fare un qualcosa da fare e poi successivamente si si va ad approvare in giunta o in consiglio quegli aumenti o quelle cose proposte invece il sindaco di girolamo ha fatto il contrario se non c'era la mobilitazione dei commercianti di tutti coloro che sono stati interessati ricordiamo la manifestazione roseto si spegne con le insegne che sono state oscurate dai commercianti questo non è mai avvenuto a roseto quindi è stato anche un gesto eclatante che però ha fatto capire all'amministrazione che le sue scelte politiche amministrative ed economiche sono completamente errate lo abbiamo visto sulla tari noi in consiglio comunale anche lì c'è stato un altro ricorso al tarre che è stato parzialmente vinto noi abbiamo detto più volte in consiglio comunale che l'amministrazione non poteva caricare sui costi della tari i crediti di dubbia esigibilità ma solo quelli inesigibili cioè se c'è un qualcuno che non può più pagare perché è stato fatto il pignoramento insomma tutte tutte le procedure che comunque si devono fare per dichiarare un credito totalmente inesigibile dopo queste procedure si può inserire quel costo all'interno da tari non quando ad esempio l'ino nazionale non paga da un anno succede che poi l'anno dopo magari paga gli arretrati perché la situazione economica generale del paese la conosciamo tutti e io non posso inserire nel frattempo quello il l'importo che non ha pagato tizio o non ha pagato caio questo perché perché la legge dice questo la legge dice che bisogna inserire solo i crediti inesigibili ma anche i revisori dei conti avevano sottolineato questo aspetto questo però questo non ricordo però comunque il tribunale amministrativo è stato molto chiaro in merito a questo e ovviamente adesso a parer mio ma comunque sul sul nuovo se c'è stato quest'anno una riduzione della tari sicuramente perché è stata vinta questo questo ricorso al tar che è stato fatto dagli operatori ma comunque c'è stato un supporto di noi dell'opposizione comunque si dovrà andare al conguaglio e adesso allora sicuramente per l'anno 2019 c'è stata una riduzione non per tutti perché pare che per le attività commerciali è cresciuto il 5 per cento però comunque c'è stata una riduzione rispetto allo scorso anno in più l'importo iscritto nel nuovo piano finanziario della tari che riguarda quell'aumento che c'era stato illegittimo secondo amministrazione di 30 mila euro secondo i nostri calcoli di oltre 400 mila euro noi sapevamo oltre 350 mila euro ecco quindi cosa succede? succede che a parer nostro la maggioranza deve al più presto dire come restituirà queste somme ai cittadini che hanno pagato illegittimamente la tari molto di più nel 2018 ovviamente il ricorso è stato fatto per l'anno 2018 ma il metodo adottato è lo stesso del 2017 quindi potrebbe essere fatto un altro ricorso e quindi io credo che i cittadini se l'amministrazione ha sbagliato il metodo di calcolo della tari i cittadini hanno diritto al rimborso in più sull'imposta della pubblicità ancora oggi non c'è stata la l'aumento non è stato eliminato perché mi pare di non aver visto non aver visto delibere di giunta quindi il bilancio è stato approvato con gli aumenti c'è l'impegno ma c'era anche l'impegno c'era anche l'impegno in campagna elettorale di ridurre la tari c'era anche l'impegno in campagna elettorale di non inserire la tassa di soggiorno c'era anche l'impegno nel programma elettorale di fare i consigli di quartiere eletti e non se ne vede l'ombra c'era anche in programma di mettere il question time in consiglio comunale dove i cittadini potevano parlare nei primi minuti del consiglio e adesso finisce la consigliatura e non si è visto nulla c'erano tante promesse all'interno di quel programma elettorale quindi io credo che alle prossime amministrative sia difficile per questa amministrazione riscendere tra le piazze confrontarsi con i cittadini perché i cittadini io quelli che incontro perlomeno sono molto arrabbiati dalle scelte di questa amministrazione che io mi auguro costruendo e ci ricolleghiamo all'inizio un centrodestra unito e quindi vincente a parer mio possiamo mandare a casa questa amministrazione e rialzare far rialzare la testa a roseto alla nostra città siamo in conclusione bene io ringrazio angelo marcone prima offerto della cioccolata un uovo di pasqua della nostra collega ho rifiutato sono a dieta da oggi no no da un po di tempo qualche grammo l'ho perso qualche grammo comunque diciamo che dopo le feste tutti siamo tenuti qualche maniera a pasqua no però a pasqua ci mancherebbe almeno a pasqua mazzarelle non me le puoi togliere assolutamente dopo le feste però insomma siamo tenuti più o meno tutti quanti ad abbattere qualche chi letto bene io ringrazio angelo marcone come dicevo consigliere comunale giovanissimo consigliere comunale a roseto vi ricordo l'appuntamento con l'informazione di teleponte oggi alle 14 con la prima edizione del telegiornale grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata arrivederci